Salve a tutti uocikebari! Oggi ho deciso di fare la reaction, sì però senza la webcam perché non ce l'ho ancora, al film di Chuck E. Cheese. L'ho nominato nel mio video della storia completa di Chuck E. Cheese, questo film si chiama Chuck E. Cheese Galaxy 5000 e dura un'ora e tre minuti, quindi dura anche pochissimo e vediamo un po' come ragazzi. Quindi, let's go! Ok. Chuck E. Cheese in the Galaxy 5000! Bello, regà! Che cacchio succede? C'è una pizza! Oh, salve signore! Oh, ciao anche a te! Oddio è Pasquale! Pasquale! Arrivo Pasquale! Arrivo Pasquale! Questa... Ok, c'è Chuck E. Cheese, Ellen! Guarda gli occhi di Chuck E. Cheese, aiuto! Ma... Scusate perché Pasquale non è un costume? Eh, vuole i soldi! Per far cosa? Non ho capito perché gli servono i soldi! Hanno i soldi! Hanno i soldi! Regà, c'hanno i soldi! Sì, vuole più soldi questo per prendersi la Playstation 5! Oh, 25.000 dollari! Oh, 25.000 dollari! Attenzione! Tanti soldi ha bisogno, eh! Ok! Oddio! Io saprei recitare meglio, lo dico, eh! Allora ragazzi, allora, allora, allora! Charlie ha bisogno dei soldi, parecchi! Per aiutare il suo zio! Per qualcosa! Che non ho capito! Eh, sì, come facciamo a prendere i soldi per Charlie? Ok! Oh, ci sarà tra qualche giorno una gara? Oddio! Oh! Oddio! Oddio, la qualità! Oh mio Dio! Oh mio Dio, la qualità, regà! Dai, prendiamo i soldi! No, cosa? Cosa? Oh! Ancora il televisore! Oh mai! Chi cazzo sono quei tizi? Guarda la qualità! Regà! Regà, la quali... Guarda la qualità dell'animazione! Questi tizi sono cattivi, si capisce! Cosa? Perché tu ti annuncia? Regà, raga, questo film è strano! Cosa? E' me! I took my shoes off! No! It's something different! Cosa? I got it! Cosa? He's got the sense! It's adventure! That's it! I smell it! Penso d'odore di ballo! Esatto! Aiuto! Raga! C'è un tizio che sulle penoforte è apparso a caso! Oh mio Dio! Oddio! Regà! Raga, ho paura! Raga, ho paura! Raga, ho paura! Oh! Raga, sto male! Raga, sto male! Oh! Oh my... God! Oddio! Oddio! Ok, dopo un ballo che è durato tipo due minuti... Eh... A quanto pa... Sì! Sotto la pizzeria c'è una specie di laboratorio gigante! C'è chi ci si ha messo la tuta da... Ok! Da pilota! Dio! Aiuto, regà! Oh mio Dio! 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 Oddio! Cosa un Chucky Scusate però qua è sbagliato In realtà sono caduti in una posizione diversa Si è notato ma che cazzo Si nota che Ellen è innamorata di Chucky Cheese o sbaglio? Raga mi vede il vomito Raga mi vede il vomito Fa schifo Raga c'è una grafica orrenda Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio No non molestate Ellen Non picchiate Ellen Bastardi Ok Chucky Cheese sfida questi brutti coglioni Raga Raga io non so che dire Si spacchiamo il culetto a questi bastardi Eh ragazzi hanno trovato questo tizio che è un cowboy che a caso sta qua nello spazio Boh Che quindi penso che sia tipo il meccanico del loro veicolo Ok Che ci fa un cowboy nello spazio Cosa Bello Songbird La canzone dell'uccello Ok Aspetta ho appena detto una cosa che potrebbe essere confusa Aiuto Eh vabbè oh Chucky Cheese devi prendere la Songbird Lo so fa schifo vero Fa schifo lo so Eh non è brutta dai Si Non va veloce raga non va veloce Sto notando che stanno parlando parecchi i personaggi ma Chi è questa tizia Chi è E' quello Eh Bello il Songbird No non è quello Si 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 tradiamo l'amicizia e la fiducia del cowboy spaziale Oddio Regà Regà ma che sta succedendo Raga Ellen è gelosa di questa tizia che ci sta provando con Chucky Cheese Allora è confermato Elena ma Chucky Cheese è innamorata di lei E di lui Ma che cazzo succede Nooo bastardo Guarda ora si incazza Chucky Cheese ha detto Ah ma no è solo un'amica è solo della gang Guarda guarda quanto Guarda che camminata fa E' incazzata Ellen Raga abbiamo scoperto che Ellen E' innamorata di Chucky Cheese Ehm Penso che sia Si Esatto Ellen è innamorata di Chucky Cheese E' confermato Sono innamorati Oddio 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 regà Che sta succedendo Stanno modificando la Songbird Ok Raga Raga ho paura Raga ho paura Raga E si parte E loro non partono neanche Partite coglioni Raga 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 ma che Ha preso la scossa Eh son partiti Guarda la grafica Guarda che schifo Guarda regà la grafica Mister Munch Sei sempre Sei sempre inutile In questo film Nooo bastardi Aiuto raga la recitazione La recitazione fa schifo La recitazione fa schifo Chucky Cheese Nooo Chucky Cheese Si sta sprofondando Chucky Cheese muore Chucky Cheese è morto Non è morto E' morto Sta morendo E' morto E' morto Ok Ok regà Non capisco Ancora C'è chi sta per morire C'è chi sta per morire Oh madonna Oh madonna Oh madonna Sta per morire Sta per morire Chucky Cheese muore Oddio Oddio Hanno vinto Hanno vinto i cattivi Nooo Chucky Cheese Nooo E' ultimo Chucky Cheese ha perso Ma che ci fa Ellen con quei due Che cacchio fai Che cacchio fai Che cacchio fa Ellen 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 Cosa Che non capisco Eh Ellen Che cacchio fai Ellen Ti darei uno schiaffo Che c'è Jesper Perché Jesper sta cantando Quello cos'è un gelato Ma quanto dura sta canzone Già tipo due minuti Che va avanti Raga ma perché c'è il purple guy Ma che cazzo Ma che cazzo A quanto pare sì Hanno barato Hanno usato un potere speciale Oh raga A quanto pare Tizio In bianco in realtà E' quel E' il cattivo Come un'altra canzone Ma c'è appena stata Quella di Jesper Perché un'altra canzone Adesso Perché un'altra canzone Ma perché un'altra canzone Raga Quanto cringe Allora ragazzi La canzone Del tizio cattivo E' durata Quattro minuti Ok Chuck E. Cheese Sta riprovando A guidare Sta facendo delle prove A quanto pare Vai Chuck E. Cheese Forse aveva perso Perché prima Era Erano in troppi Eeeh Gente Questa immagine È inquietante Ed è già apparsa Per due volte Ok Questo helmet Non è pasquale Vabbè Lo stesso attore Dov'è la songbird Oddio Oh mio dio Raga Cos'è questo ballo Raga Raga ho paura Ancora canzoni Ecco adesso Chuck E. Cheese Capisce Cosa vuol dire Essere un vero Razzo Vai Forza Oddio Oddio Ellen è stata messa In prigione Questo film Sta durando troppo Dura un'ora e tre Minuti Raga Sembra due ore Di film È stata messa Tra È stata messa Tra le galline Che è successo Ragazzi Che cacchia è successo Da dove l'ha preso La padella Sì Galline in fuga 2 Perché Perché stanno sniffando qualcosa Ma questo raga Ma è un film per bambini Ma mi sembra più un film per adulti Ok a quanto pare Ellen ha avvisato la polizia Vanno a prendere il tizio Andiamo a prendere il cattivo Vai Ellen, brava Ellen, bravissima Oddio Sto film sta durando troppo Sta durando troppo Oddio Sono tornati Ah il fumo no Raga per colpa del fumo sono andati ultimi Ok dovrebbero usare un potere potente Aiuto Ok c'è il tizio che Non mi ricordo come si chiama La specie di Pasquale Che Dai Shaq Ce la puoi fare Per favore Finiamo sto film Perché è una rottura di maroni Vai Shaq Noi crediamo in te Anche se tante persone Manco ti conoscono Nooo Nooo Un'altra canzone Vai Shaq Vinci E vince Shaq Cheese E vai E' finito Hanno vinto Vattene te Oh Hanno vinto finalmente Bene dai Hanno vinto E così Danno poi soldi a Charlie Personaggio più inutile Di così non si può Ah ancora ballano Stanno ancora ballando E' un'altra canzone Ce ne sono tipo 6 o 7 In questo film Aiuto Ok Il film praticamente Si può rassumere in due parole Un bambino chiede a Jackie Dici ai suoi amici Di avere dei soldi Vanno in una galassia E fanno una gara Ebbene gente Questo è tutto Per la mia reaction Al film di Jackie Cheese In Galaxy 5000 Ciao ciao Aiuto